ciao e benvenuto in camperis nel video di oggi vediamo uno splendido rexoline 581 è un camper motorhome sotto i 7 metri adatto a una coppia che vuole avere un letto comodo posteriore con la possibilità anche di un letto matrimoniale anteriore sul basculante è adatto anche a una famiglia magari con due figli uno maschio e femmine si possono tenere separati sui letti posteriori questo modello è dotato anche di un ampio garage doppio pavimento passante e utilizzabile quindi tanta possibilità di stivaggio la dinetta anteriore è avanzata con i sedili girevoli e panca contrapposta sulla cabina scende un ampio basculante grande fino a un metro e cinquanta la sua cucina spaziosa ha un piano cottura con quattro fuochi e addirittura il forno frigorifero di 160 litri il bagno alla doccia separata quali sono i vantaggi di questo camper è sotto i 7 metri quindi è molto molto compatto e poi viaggiare anche in terza corsia sui traghetti non paghi supplemento il telaio alco che gli consente di avere stabilità in strada peso contenuto e un ampio doppio pavimento che ti serve per stivare e per isolare bene il camper d'inverno un altro vantaggio molto importante è l'alluminio quali sono i vantaggi dell'alluminio la carrozzeria rimane bella nel tempo infatti l'alluminio li permette di avere sempre lucentezza anche dopo anni e anni di vita e gli permette anche di avere un peso contenuto quali sono gli svantaggi di questo modello quindi contro i due grandi letti gemelli posteriori diminuiscono quello che è la vivibilità interna nella parte anteriore quindi sicuramente consiglio questo veicolo a chi dà tanta importanza alla parte posteriore però oggi questa piantina è la più richiesta sul mercato vediamo ora qualche altra caratteristica tecnica il camper è del 2011 ha un cambio manuale è montato su fiat docato con alimentazione diesel cilindrata a 3.000 a 53.000 chilometri è omologato quattro posti ha un peso a pieno carico di 3500 kg è lungo 6 metri 93 2 metri e 30 di larghezza e 3 metri di altezza la trazione anteriore alla doccia separata antinquinamento euro 4 gli accessori invece che ti permettono di godere appieno dell'utilizzo del camper sono antena satellitare televisori sospensioni anteriore e posteriori ad aria cucina grand chef con forno cerchi in lega gancio di traino telecamera di retromarcia con monitor puoi acquistarlo con formula usato facile se non sai cos'è usato facile ti invito a visitare il nostro sito camperis.it e noi ci vediamo al prossimo video